Allora ragazzi, nel pomeriggio come al solito abbiamo registrato una telefonata Abbiamo registrato una telefonata Ah perché registri pure, perché hai paura di farlo in diretta Questa è l'unica trasmissione in cui il conduttore Uno dei due conduttori Quindi registri perché hai paura di andare in diretta Bravo, diciamolo chiaramente Uno dei due conduttori sputtana la trasmissione in cui stava Ma dai, dillo che allora è registrata la trasmissione Ma deve essere tutto in diretta Tutto live Ma come c'eri anche tu a farlo alle 5 Che cazzo dici? Ma sì, tanto vale tutto Abbiamo chiamato questo signore che è quello che ha fatto il video Fingendosi un infermiere Dicendo che ero anche un po' ubriaco E i carabinieri si sono messi sull'attenti praticamente Costui è un piastrellista Un piastrellista della provincia di Varese Poi ha fatto lo spaccone In realtà pare che abbia consegnato Ha fatto questo video per un suo amico Insomma il video ormai è diventato Come si dice con questo gergo orrendo Virale in tutta Italia Cosa è successo in questa telefonata? Vai Pronto? Mico mio Sono Cruciani Buonasera Dimmi come cazzo Dimmi come ti è venuto in mente Dimmelo subito Ti è venuto in mente Ti sei pentito Come è scattata la molla? Spiega Dimmelo subito Ma non ho capito Chi è lei? Sono Cruciani Mi chiamo Cruciani Buonasera E lei chi è? Mi chiamo da Radio 24 Buonasera Buonasera Dimmi com'è scattata questa cosa Tu puoi essere anche perdonabile Ma dimmi com'è scattata Allora divento davvero famoso Adesso Bah famoso Dai già lo sei Perché sei in tutta Italia Sei in tutta Italia Voglio capire come ti è venuto in mente Di fare questa cosa Cioè come Che cos'è che è scattata? Farla Allora ascolti Glielo dico in breve Sì Perché c'è il telefono Che sta esplodendo Da due giorni Dimmi Adesso 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 Siccome sono una persona Molto ma molto intelligente Adesso lei ha il mio numero Giusto? No ma dimmelo però Beh dimmelo No no Aspetti un attimo Aspetti un attimo A me non me ne frega niente Delle multe Delle multe non me ne frega niente No 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 io sono suo amico Io le voglio bene E neanche la conosco Adesso non lo so No no Posso dirti l'ultima cosa E poi ci diamo la conversazione No io voglio capire Perché ti è venuto No è troppo bello Perché è troppo bello Che vuoi fare Mi facciamo anche di notte Vuoi l'esclusiva Vuoi l'esclusiva Adesso Mi fa parlare Dimmi 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 Io è bravo dimmi Diamoci del più Ascolti queste Dopo io attaccherò No però scusa Non essere caffone Non essere caffone Adesso se volete altre informazioni Mi pagate Cash Solti Perché 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 Come aspetta Questo Ma le soldi Basta ragazzi È diventata È diventata Veramente un'abitudine Non se ne può più C'è prima quello De Palermo Pure questo Vuole i cash Ma che cazzo vuole Questo qua Ma cosa vuole Ma cosa vuole Questo Cosa vuole I soldi Perché cosa Ha fatto una minchata E altra trattativa E partiamo Con l'altra trattativa Pronto Allora mettiamo in chiaro una cosa Io ho a che fare ogni giorno Con gente come te Ogni giorno Per cui non è che adesso Vieni a fare lo splendido con me Perché Non viene a fare lo splendido No no io non mi sto arrabbiando Io non mi sto arrabbiando Io non mi sto arrabbiando per niente Però mi hai buttato Mi hai buttato il telefono in faccia Mi hai buttato il telefono in faccia Allora ti richiamo Ti richiamo E gentilmente Ti chiede Molto gentilmente Ma anch'io voglio essere gentile Voglio essere pagato E perché Perché vuoi essere pagato Non ho capito Ti sei Ma vedi la tua cosa mia Parliamo ancora tutti No ti sei finto infermiere Ma non è una minaccia Le sto dicendo Ma lo so che Figuriamoci Io sono libero di pagarti O di non pagarti Figuriamoci Sono una minaccia Pagate per uno che si finge infermiere No però Cioè tu sei finto infermiere Davanti ai carabinieri Dicendo che hai anche un po' bevuto Dopo nel video E io ti devo pagare Cioè vuoi essere pagato Cosa vuoi da me Voglio capire Che cosa ti è scattato Non tanto nel fingerti Non è gratis Soldi Cosa gratis Soldi perché cosa Hai già fatto Una volta nella mia vita Ho regalato Ma già ti seguiamo Quanto vuoi Quanto vuoi Quanto vuoi Spiegami Quanto vuoi Lo decidiamo No ma dimmi quanto vuoi Se è una cosa fattibile Se no manco vengo Non posso venire Cioè non posso venire Non è che posso venire lì Sì per fare un'intervista Per fare un'intervista Posso venire Ma non è che sono come te Che esco Esco e mi fingo Quanto vuoi Tendenzialmente Quanto vuoi Ma quanto vuoi Allora guardi Sa che lavoro faccio io Il piastrellista Il piastrellista Sì Il piastrellista Sa dove Sì Sa dove In Svizzera Sa quanto guadagno 5.000 euro al medio Non ho bisogno di soldi Adesso lo faccio per soldi Scusami no però Cerchiamo di essere calmi Ma lei ma perché vuole Lei fa il suo lavoro E ha ragione No noi siamo qui No no Cerchiamo di calmare Ma io siamo qui alla radio Io voglio essere tranquillo con te Io voglio capire una cosa Voglio capire una cosa Io voglio i soldi Ma aspetta un attimo Aspetta un attimo Guarda che Guarda che è brutta È brutta sta cosa dei soldi È molto brutta È brutta questa cosa Perché sono stato denunciato Su tutti i giornali Adesso vi pagate Per avere un'intervista Però scusami un attimo Io capisco Capisco che tu sei stato sputtanato Ma ti sei sputtanato da solo Ma l'hai fatto da solo Hai fatto Hai fatto Non si può dire l'indirizzo Vi pagate E vi lascio faccio l'intervista Ma non si può dire Alla radio L'indirizzo Ma cosa possiamo dire In queste interviste In più Ma l'hai fatto tu il video Non è vero E chi l'ha fatto appunto Io vedi che Ah adesso No Un tuo amico ha diffuso il video D'accordo Ma è uguale Ma perché l'hai fatto il video Perché l'hai fatto il video Perché l'hai fatto Perché ti sei finto infermiere La mia chiamata Si sta interrompendo Mi pagate Aspetti Proviamo a fare una trattativa Sono Parenza Aspetti un attimo È radio 24 È radio 24 No cerchiamo Proviamo a capirci Signore falso infermiere Proviamo a capirci Giusto per capire Allora Amiamo sul tavolo Un piccolo budget Partiamo da una base Allora facciamo così Allora Mi faccio una piccola premessa Mi faccio fare una premessa E poi parla lei Perché sono due giorni Che davvero sono Ma io voglio intavolare Con lei una trattativa Una piccolissima trattativa Allora diciamo Lei ha fatto Lei lo sa che mi ha chiamato La D'Urso Beh questo è chiaro Sì Non ci ho benvenuto Prevedibile Prevedibile Quanto ha offerto la D'Urso Quanto ha offerto Ecco esatto No io non dico Quanto mi ha offerto la D'Urso Voi siccome Siete anche simpatici Non so il perché Allora noi mettiamo sul tavolo Cinque Ok No cinquecento 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 Aspetta 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 No aspetta 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 Ho detto Mettiamo come partenza Richiamano Come partenza E stavolta Stavolta S'ho partito Troppo basso io Cioè stavolta S'ho partito basso io Per rimanere ambiguo A posto Ho detto cinque Per rimanere ambiguo Cinque kappa Cinquecento Cinquemila Cinque lire Ma io infatti Sono andato subito Su una di Cinque lire Cinque lire Quelle di Rinaldi T'ho andato cinque lire Comunque molti mi dicono Che è zè 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 Non è Tu l'hai rifatto Comunque ragazzi Adesso Mi richiamate Mi sono andato No richiamate Mettiamo l'altro file Mi sono andato Che è lire Zè 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 Pronto Allora Eccoci No dicevamo Perché hai preso il telefono Ho detto Io metto sul tavolo Cinque Ma perché Ma perché mi avete preso Per l'operaio della Fiat Ma no Cinque Un momento Ho detto cinque Ma come partenza C'è una casa di tre piani Da 250 No ma infatti La questione Qual è il valore Dell'intervista No ma ho detto Mercanteggiamo Cerchiamo di capirci Così ci veniamo in conto Allora Il valore dell'intervista Ho detto che sono finito In una donna mediatica Ma prenditela col tuo amico Prenditela col tuo amico Qual è il valore Delle cose Va bene Chiaro Stiamo mettendo Sul tavolo Sto mettendo sul tavolo Una valigetta E le sto dicendo Qual è il valore Dell'intervista Ma no Cinque Potrebbe essere anche Cinque mila Ho detto cinque intanto Cerchiamo di ragionare Qual è il valore Ragioniamo No ma ragioniamo Con calma però Cos'è che ci può Aggiungere di più Perché il valore Deve essere corrisposto Rispetto a qualcosa Che lei aggiunge di più Allora cosa possiamo dire Di più Secondo lei Per il valore Di cinque sacchi Cosa possiamo aggiungere Di più Perché se no Io mica sono nato L'altro giorno Mica sono appeso A un albero Qual è il valore Delle cose Che ci può dire Che novità In più ci può dare Rispetto a quello Che abbiamo visto Sui giornali Questo è il tema È troppo bello È troppo bello Io adesso Ma che tu Ma che tu Ma che tu Ma che tu Io adesso le do Lei cerca Di farmi innamorare Di lei Lei pensa Che io mi innamoro Di lei Lei sta cercando Di farmi innamorare Ok di lei Si innamorare Io le racconto La storia della mia vita No 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 Quella è proprio interessante Le assicuro Quelle vale cinque euro La storia della sua vita Vale cinque euro L'unica cosa Che glielo dico io La storia della sua vita Oggi vale cinque euro Quello che può avere Un valore È un po' di retroscena Rispetto a quello Che lei ha costruito Cioè la presa Potrebbero Io vi do Tutto quello che volete La presa per il culo Nei confronti degli infermieri Che stanno Combattendo ogni giorno È una cosa di una gravità assoluta Lo ammetti o no Almeno questa cosa qua Che è un affronto Nei confronti degli infermieri Chiediamo scusa agli infermieri Questo già vale Questo già vale Ma quello non vale Mi spetta su Facebook Sul mio profilo E che ne so Ma voglio vedere Hai chiesto scusa? Hai chiesto scusa? Assolutamente Ma voglio vedere E allora vale poco Allora vale poco Anche questo Vale poco Abbiamo già fatto Se l'hai già fatto Vale poco Non ha valore commerciale Quello che potrebbe valore Cos'è che potrebbe avere Un grande valore Cioè perché Dovevi dare cinquemila euro Dell'azienda Capito? Questo è il fatto Io sono appena uscito Dalla caserma Dei carabinieri Sono stato tre ore Che t'hanno fatto? C'ho una notizia Multa? 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 Attenzione C'ho una notizia? No no E dopo Eh sì va bene Multa? Io ho una cosa E se davvero succede Quello che succede Che abbiamo fatto Uno più uno Con il marisolo Dei carabinieri Eh Se viene fuori una cosa Che non le dirò mai Assolutamente No perché Solo con soldi Solo con soldi Devo chiedere ancora? Vuoi che chiudo? No 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 Se viene fuori? Vuoi che chiudo? No no Se viene fuori Se viene fuori Cosa succede? Se viene fuori Allora Se viene fuori una cosa Perché è troppo lungo da raccontare Ma se viene fuori Io sono anche fortunato io Se viene fuori una cosa Ho più una bomba mediatica Allora Ok 50 euro No no per carità Per carità 50 euro Non ce ne posso dire Perché c'è la privacy Ok No per carità E' una bomba Però io voglio dire una cosa Ma è una bomba vera Il punto fondamentale è questo Dopo le scuse agli infermieri E un po' anche alle forze dell'ordine Perché a un certo punto Le forze dell'ordine Si sono quasi messe sull'attente Hanno fatto anche Una figura Barbina Sì sì certo I carabinieri soprattutto Cioè figura Barbina Li ha ingannati Qual è il reato Che gli hanno ipotizzato? Questo bisogna ricordarlo Però il reato No io no In che senso il reato? No I carabinieri avranno contestato Qualche cosa no? Un reato Li hanno contestato Un reato Arrivederci un'altra volta A ridaglie Quanti soldi? Ancora non sei arrivato A una conclusione Quanti soldi? Non abbiamo letto Nessuna conclusione La zanzara La zanzara Che se non mi piace Quanti soldi? Grazie a tutti.